Allora ragazzi, buona giornata a tutti, velocemente per quanto riguarda l'arbitro, c'era un rigore netto per la Juventus ma non voglio parlare di questo perché quello è un rigore che comunque devi andare a guardare al VAR, ma non voglio parlare di questo. Costa, sei un coglione, sei un coglione, sei forte, sei entrato in campo, eri uno dei migliori in campo se non il migliore, sei sopra i due gol, hai fatto fallo, non ti ha dato il fallo, puoi rialzarti, andare a contrastare sul Klos che poi ha portato al gol loro, che cazzo ti ha preso? Cosa ti ha preso? Non c'era motivo di essere nervoso, non c'era motivo di fare quello che hai fatto. Perché tu oggi, oltre allo sputo, hai tentato di dare anche una testata, hai tentato di dare una gomitata, quindi almeno 3-4 giornate te le devi beccare, te le devi beccare. E mi dispiace perché sei un giocatore fortissimo per noi, sei un giocatore in... Io veramente non so che cazzo servono queste cose per rovinarsi le partite, cosa servono? Le partite, le partite successive, perché la partita l'abbiamo vinta, per fortuna. Però, professionisti siete. La società deve multarti tantissimo, deve darti una multa carissima in questo momento. Hai fatto una grandissima cazzata. In un periodo nel quale siamo pieni, zeppi di partite. Non una partita a settimana come poteva essere un mese fa. No, adesso abbiamo una partita ogni 3 cazzo di giorni. Vabbè, io ogni tanto l'ignoranza di certi giocatori... Io capisco perché ho giocato a calcio anche se a livelli giovanili e posso capire che certe cose possono capitare in un campo di calcio. Però ci sono delle situazioni che le capisci, altre no. No, questa non la capisco, perché un conto è un giocatore che sta perdendo 2-0 e viene tartassato dai giocatori avversari, l'arbitro non fischia un cazzo e quant'altro. E anche se non è giustificabile, però posso capire la reazione. Questa volta, no, no. Costa, sei da zero solo per quello che hai fatto. E ripeto, eri fino a quel momento il migliore in campo. Da quando sei entrato? La Juventus è cambiata. L'unica volta che Allegri leva Mandzukic per mettere te e non leva un Dybala o un Ronaldo, ok? Infatti, tra l'altro, poi parliamo anche di calcio. Il contropiede del 2-0, fantastico. Emre Can deve fare la mezzale e non il regista perché ha fatto una progressione anche lui. L'assist perfetto. Costa ha fatto una grandissima giocata. Dybala, anche lui è entrato bene in alcune azioni secondo tempo. Secondo tempo, tutt'altra cosa rispetto al primo. E quindi, bellissimo tutto. E tu rovini una prestazione in questa maniera e rieschi a rovinare una partita della Juventus. E per fortuna che la Juventus comunque ha una panchina lunga. Io adesso non faccio discorsi del tipo, già che abbiamo tutta l'Italia contro no, perché comunque, ripeto, questi sono giocatori brasiliani, argentini, tedeschi. A loro della Juventus frega perché comunque è la loro società di calcio, ma non vivono le rivalità che abbiamo, che viviamo noi tifosi. Allora, per il resto, abbiamo fatto due passi indietro in questa partita qui rispetto a un mese fa. Perché è vero che prendevamo gol, ma oggi abbiamo preso un gol da stupidi. Un'altra volta Bonucci tecnicamente è forte, ma nei cross, nell'uno contro uno, Benatia è più forte. Oggi Benatia, infatti, secondo me è stato uno dei migliori in campo. Bonucci da 5, 5 e mezzo. Bravo nei lanci, bravo nel fraseggio, bravo con palla al piede, appunto, ma non possiamo prendere gol ogni cazzo di cross che fanno gli avversari. Non è possibile. Vabbè, comunque, a parte questo, fraseggio che non c'era, o possesso palla fino a se stesso comunque, ottimo il Sassuolo e vanno fatti i complimenti a De Zerbi e al Sassuolo perché faceva fraseggio con Ronaldo, Di Bale e Manzucchi nel primo tempo che pressavano. Quindi grande personalità del Sassuolo, veramente, ma uscivano palla al piede in maniera impeccabile, veramente fantastico il Sassuolo, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo usciti noi perché comunque dovevamo fare gol. Adesso che Ronaldo ha fatto doppietta e ha sfiorato la tripletta, adesso sono cazzi vostri. Perché adesso tutti gli antiguentini dicevano, eh, sfottevano Ronaldo perché non segnava e quant'altro, eh, adesso sono cazzi vostri. Perché ha iniziato a fare gol. Ha fatto due gol e ha sfiorato, appunto, più volte il terzo. Per quanto riguarda Di Bale, a molti lo criticheranno, ma non è dispiaciuto sinceramente oggi, che dirà nemmeno lui Manzucchi invece sì. Manzucchi viene messo come prima punta e poi fa tutto forché la prima punta. L'angolo dal quale è nato il primo gol di Ronaldo è nato, è arrivato, ok, proprio da una sponda di Manzucchi in area di rigore. Perché quello deve fare Manzucchi, quello deve fare. Boh, detto questo, finisco così, ma quello che hai fatto costa, mi ha lasciato senza parole. Cioè, momenti di follia, due o tre minuti così, ma neanche due o tre minuti. 20 secondi, 30 secondi, follia, per cosa? Ok, potrei giocare in Champions League, per carità. Però, che cazzo il senso ha? Che senso ha avuto? Vabbè, vabbè. Per il resto, per quanto riguarda Allegri, non mi è piaciuto appunto come ha messo, cioè, che ha messo Manzucchi con la prima punta. Però poi ho capito, perché comunque costa arrivava da un momento, forse questo un po', posso dire questo, non lo giustifico. Però il fatto che abbia giocato col Brasile, poi il fuso orario e quant'altro, può essere stressante. Può poi portarti a fare delle cazzate, che magari, a mente fredda, costa, non si spiegherà nemmeno lui. Ok? Tengo a precisare questo. Però poi, appunto, posso capire, perché costa era, rientrava, ha giocato spesso col Brasile, e quindi ha messo Manzucchi. Però ha fatto bene, poi, nel secondo tempo, a levarlo e a mettere costa, perché con costa, di fatto, poi, l'abbiamo chiusa. E l'abbiamo anche riaperta, però. Però, di fatto, costa, tecnicamente, ti risolve le partite. Questo fuori discussione. Mi dispiace per la cazzata immensa che hai fatto. Vabbè, detto questo, vi auguro buonasera a tutti, sempre fino alla fine Forza di Ventus. Adesso c'è Valencia, mercoledì sera. Io, veramente, non riesco a spiegarmi perché ha fatto una cazzata del genere. Cioè, sto, veramente... Boh. Cioè, ci sono delle cose che posso, dico, vabbè, non le giustifico, però le capisco. Ma questa non riesco neanche a capirla. Cioè, non aveva senso, senso. Non ha senso, senso non aveva. Vabbè, Ronaldo si è sbloccato. Fatalità quando... Al FIFA pronostico non ho segnato con lui. E fatalità quando l'ho preso al fantacalcio. L'altro fantacalcio con i miei amici. 605 milioni, ho venduto anche, ho ipotecato la casa per prenderlo. Almeno mi ha fatto la pietà. Vabbè, buonasera a tutti. Fino alla fine, sempre e comunque. Forza, Ventus. Costa, costa.